Dal gennaio 2012 era irreperibile. A maggio è scattata la condanna per bancarotta fraudolenta e ricorso al fallimento. A porre fine alla latitanza dell'imprenditore Fausto Bianchi sono stati i carabinieri del nucleo investigativo che lo hanno arrestato al valico del Brennero, probabilmente stava cercando di rifugiarsi in Ucraina, paese d'origine della sua compagna. Il 43enne era già noto alle forze dell'ordine per le indagini che hanno portato all'arresto dell'ex direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, Alfonso Filosa. Fausto Bianchi era stato infatti arrestato nel 2009 per corruzione, con l'accusa di aver versato a Filosa una mazzetta di 45 mila euro per evitare i controlli nella sua azienda. È un importante arresto questo che abbiamo operato nei giorni scorsi, in quanto il soggetto che è stato individuato e catturato è uno dei maggiori test, se non il test principale della vicenda a Filosa. Inoltre i nostri accertamenti avevano portato a purare che si era reso irreperibile da diversi mesi, quindi è stato difficile individuarlo e catturarlo, dovendo lo stesso comunque espiare sette anni di carcere a causa di due condanne diverse avute sia dal Tribunale di Piacenza che dal Tribunale di Novara per reati relativi alla disciplina sul fallimento e la bancarotta fraudolenta in relazione alla gestione dell'omonimo gruppo aziendale. Tra l'altro nei mesi scorsi era stato anche arrestato il padre, sempre per le stesse ipotesi di reato per le stesse condanne.